Buone notizie sul fronte vaccini. L'agenzia regolatoria americana FDA fa sapere che il vaccino Johnson & Johnson è sicuro ed efficace. Lo ha scritto in un posto su Facebook Antonella Viola, immunologa dell'Università di Padova. Il vaccino è basato su adenovirus, ma in un'unica somministrazione. È efficace all'85% nel prevenire la malattia severa anche in zone in cui circolano le varianti. Considerando tutti i casi, anche i casi lievi e moderati, la sua efficacia varia dal 72% in USA al 56% in Sudafrica. Per il momento sembra il migliore tra quelli analizzati nel paese africano, Novavax e AstraZeneca, ha spiegato Viola. Sembra meno efficace negli over 60 con fattori di rischio. Per quanto riguarda la protezione dall'infezione asintomatica, i dati non sono abbastanza forti per potersi esprimere con certezza. I risultati indicano che c'è un'ottima protezione anche dall'infezione, 74%, ma questo aspetto andrà chiarito meglio in futuro quando più dati saranno disponibili. Questo vaccino potrebbe davvero accelerare la campagna di vaccinazioni e fare la differenza. Si aspetta l'approvazione in USA entro il fine settimana e poi speriamo che segua subito anche l'Europa, ha concluso l'immunologa.